Il 25 aprile di 75 anni fa rappresenta una data fondamentale della nostra storia. La seconda guerra mondiale è stata una tragedia in cui l'unico raggio di luce fu rappresentato da donne e da uomini che resistettero e sacrificarono la loro vita contro la dittatura nazifascista. Fecero quella scelta drammatica e coraggiosa perché credevano nel rispetto degli individui, nella giustizia, nell'uguaglianza tra i popoli e nella libertà. Valori, principi e sacrifici per la conquista di diritti che ritroviamo nella legge fondamentale del nostro Stato, la Costituzione Repubblicana. A coloro che caddero per la nostra libertà dobbiamo oggi azioni positive che portino avanti i loro sogni, le loro speranze e cerchino di realizzarli per costruire un paese civile, democratico, onesto, così come lo sognò la Resistenza. Un paese in cui la base della convivenza civile sia costituita dai principi e dai valori della Costituzione. Le storie di allora ci spiegano come anche il lavoro dei soccorritori fosse fondamentale, in un'epoca dove curare un partigiano avrebbe significato tortura e morte. Emergency, da 26 anni, è impegnata a promuovere cure mediche, una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani e racconta esperienze di consapevolezza e di partecipazione. Quella di Emergency oggi è una resistenza quotidiana di chi vive in terre martoriate dalla guerra, di chi è costretto a fuggire dalla miseria e dalla povertà, di chi intraprende un viaggio lungo e difficile a rischio della propria stessa vita, di chi affronta e combatte ogni giorno razzismo e indifferenza. Diritti sempre è l'affermazione che Emergency ha scelto in tempi ammorbati dalla violenza, dal razzismo e dall'indifferenza come quelli che viviamo oggi in Italia e altrove. Si impegna perché i diritti siano di tutti e non ci siano discriminazioni di nessun tipo. Anche oggi, di fronte a un'emergenza sanitaria senza precedenti, come quella del coronavirus, Emergency è al fianco dei migranti e delle persone più vulnerabili ed è impegnata con un team di 20 persone, tra medici, infermieri, fisioterapisti e logisti, nella gestione del nuovo ospedale di Bergamo sulla prima linea del fronte della lotta al Covid. Emergency sta mettendo in campo l'esperienza presa in Sierra Leone durante l'epidemia di Ebola, e per farlo ha richiamato alcuni degli operatori che lavoravano all'estero. Stanno cercando di fare da loro parte in un momento così delicato per l'Italia. Lo fa perché è giusto. Un diritto è tale non solo quando è scritto sulla carta, ma quando è universalmente riconosciuto a ogni essere umano nella quotidianità. Grazie. 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 Grazie.